È difficile quantificarlo precisamente, però da alcune ASL abbiamo avuto contezza che in alcuni casi da un giorno all'altro sono addirittura raddoppiate le richieste di vaccinazione. Per cui sicuramente l'effetto Green Pass si è fatto vedere, questo significherà che nel mese di agosto le vaccinazioni continueranno a pienissimo ritmo e cercheremo molto velocemente di raggiungere quei livelli di copertura che impediranno l'aumento dei ricoveri ospedalieri. L'aumento che si sta verificando in questi giorni è molto contenuto e quasi sempre riguarda persone non vaccinate, quindi l'invito alla vaccinazione è oggi quanto mai importante. In questo momento la cosa importante è a tutti gli indecisi di chiamarli a prenotarsi, le agende per il momento sono tutte piene, quindi comunque tutto quello che possiamo fare lo stiamo facendo, non abbiamo mai rallentato la campagna vaccinale. Quindi se c'è ancora qualche indeciso, soprattutto 50 anni, quelli sono lo zoccolo duro che in qualche misura bisogna spingere. Il piano di allerta rimane sempre attivo, per il momento ovviamente non c'è bisogno di modificare quella che è l'attuale struttura della rete di assistenza, però siamo pronti per qualunque tipo di evenienza.